ok questo è il bec e nel becco notato che è il colpo che più risente dello stato di usura delle palline metto qua forse appunto migliore come vedi guarda come si ferma la pallina forse così siete meglio garantisco che la palla proprio si ferma chissà se si riesce a vedere bene ecco questa è finita in rete perché evidentemente è una pallina più sgonfia delle altre questa anche è una serie